10 5 4 3 2 1 vai sinistra 3 per destra 3 apre e sinistra 4 apre al cartello 4 apre al cartello destra 2 chiude piega destra sinistra 3 2 tempi lunga piega destra al muretto continua piega destra alle rocce destra 2 chiude bravo bravo no non bravo va bene va bene per sinistra 3 apre che al palo diventa 2 chiude dai ci stai vai tranquillo per sinistra 2 chiude chiude al cartello destra 3 per sinistra 2 apre per sinistra 2 apre destra 2 subito stacca in destra 2 tonda sinistra 4 apre 50 alla zebra attenzione sinistra 3 che diventa 2 bravo 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 100 vai vai tira tira piega destra per sinistra 3 chiude 50 alla pianta destra 3 apre bravo così la dividirà così la dividirà in sinistra 5 lunga per piega destra per attenzione destra 3 chiude alle piante piega sinistra e subito chicane entra destra chicane entra destra bravo bravissimo destra 4 suddosso per tornante sinistro tondo per sinistro tondo alla casa destra 3 apre al cartello sinistra 2 per tornante destro tondo bravo Davide sinistra 1 che sale sinistra 3 sconnessa per tornante destro stretto piega sinistra per destra 2 due tempi attenzione dosso dritto al palo sinistra 1 chiude per destra 3 due tempi due tempi piega sinistra per allo stop inversione sinistra non leva allo stop inversione sinistra non leva vai adesso dai ce l'ho di questo giro bravo bravo mamma mia bravissimo destra 5 apre al palo destra 4 apre al cartello destra 3 apre che chiude al palo attenzione dosso dritto tieni sinistra e scicano entra destra 4 e l'ultima è più larga è più stretta attenzione bravo alla chiesa destra piega destra e sinistra 4 apre 50 50 attenzione piega destra attenzione le rocce destra 3 apre piega sinistra per subito destra 3 tonda al cartello sinistra 4 lunga attenzione stacca sinistra 2 chiude bravo per destra 4 apre alle rocce stacca destra 3 chiude tieni sinistra 3 al cartello ancora tieni sinistra 3 per destra 3 lunga apre per al cartello sinistra 3 chiude bravo per destra per destra 3 apre al cartello stacca sinistra 2 chiude piega destra per subito tornante destro tondo chiude e sinistra 5 apre 30 30 pista sinistra 3 per attenzione 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 destra 2 tonda chiude 30 al muro stacca sinistra 2 chiude attenzione destra 2 chiude per sinistra 2 apre sinistra 2 apre per attenzione destra 3 apre 2 tempi alle rocce sinistra 2 chiude piega sinistra e subito destra 3 gira chiude destra 3 gira chiude piega sinistra per destra 3 per destra 3 per sinistra 4 lunga vai bravo mamma mia si è fatta all'ao che spettacolo vaffanculo grande bravissimo 5 e 26 dovrebbe dovrebbe essere mi ha fatto un cazzo tempo 4 secondi meglio del giro di prima pensa tu tutto prima male vabbè la prima però siamo rimasti la eh ma poi ci rimanerea più forte a fare la scuola molto più forte sì sì Grazie.